Oggi ti racconto la storia di Ling Ji e Anton, due imprenditori nel campo della ristorazione che sono riusciti a costruire un piccolo impero nel mondo del sushi, partendo da Castellanza in provincia di Varese ed espandendosi in tutta Italia, con tre locali, altri tre in apertura nel 2022 e due già programmati per il 2023. Ti racconterò parte della loro storia e soprattutto ti farò ascoltare una loro intervista che abbiamo registrato qualche tempo fa in questa nuova puntata di Radio Ristorazione. Ciao, bentrovata e bentrovato in Radio Ristorazione, il podcast di Ristoratore Top dedicato al mondo della ristorazione. Qui al microfono c'è sempre il tuo, il vostro, il nostro Lorenzo Ferrari che come sempre sono io. Quando parlo di diventare grande si creano sempre dei malintesi. Diventare grande nella ristorazione infatti non significa per forza di cose fare il nuovo McDonald's o il nuovo Burger King. Quindi aprire migliaia di punti vendita tutti uguali uno all'altro e conquistare il mondo con il proprio concept. Non significa creare procedure disumanizzanti o mettere dei robot che servono in cucina al posto del personale di sala. Diventare grande può anche significare strutturarsi come un'azienda, costruire un format che funziona, che piace al pubblico e semplicemente replicarlo. Replicarlo così com'è. Farlo con le proprie forze o con l'aiuto di altri imprenditori, magari utilizzando una formula del franchising, imprenditori che sono lungimiranti e capaci, e portare la propria idea di cucina, di sala, ma soprattutto di ristorazione a quanti più clienti possibili. Insomma c'è una scala di grigi tra il bianco di avere un locale e il nero di averne mille. In mezzo c'è tanto altro. Un po' come quelli che non si iscrivono in palestra perché non vogliono diventare dei bodybuilder, ma non c'è nessun pericolo che dopo qualche flessione si diventi grosso come Ronnie Coleman. Allo stesso modo c'è una bella differenza tra l'avere un locale e averne mille in giro per il mondo. Ci si può anche fermare a due, tre, cinque, dieci, a seconda appunto delle proprie ambizioni. Ecco, diventare grandi tuttavia è ciò che hanno fatto e stanno facendo Ling Ji e Anton, due imprenditori bravissimi nel campo della ristorazione e del format che abbiamo creato insieme, K.Kaiseki. Come ti diremo nell'intervista, il K.Kaiseki è un percorso di degustazione tipicamente giapponese che noi abbiamo rivisitato, adattato e portato in Italia. Il merito di tutto ciò, bada bene, non è di Ristoratore Top ma è di Ling Ji e Anton che sono stati loro ad averlo sviluppato e portato in Italia. Noi li abbiamo semplicemente supportati nella fase iniziale e con qualche ritocco qua e là in una seconda fase poi di fidelizzazione. Negli anni il format si è evoluto tanto e ora non propongono soltanto il K.Aiseki appunto, ma anche una formula che hanno chiamato K.Aiseki Unlimited, cioè un all you can eat di fascia alta. Se guardi le presentazioni dei piatti non farai fatica a capire che cosa intendo quando intendo sushi di fascia alta. Infatti più che piatti sembrano delle vere e proprie opere d'arte. Lavoriamo insieme dal 2015, quando Ling Ji acquistò il primo corso in casa Ristoratore Top, doppio dicembre, di cui ti parla anche nell'intervista. Formalmente invece abbiamo iniziato una collaborazione di consulenza nel 2018, quando Ling Ji ci diede l'incarico di trovare l'identità differenziante del loro nuovo locale. Identità differenziante appunto che poi si tramutò in K.Aiseki. Dopo un primo periodo dove abbiamo messo a posto appunto il format, gli presentai loro Andrea Langhi, l'architetto dei locali, che sicuramente conoscerai se segui questo podcast, che gli aiutò nella realizzazione di un locale dal design ricercato ed elegante, bellissimo come tutti i locali che portano la firma del Buon Langhi. E da lì inizia tutto. Aprirono il primo locale nel 2019, poi due nel 2020, in anno di pandemia, complimenti a loro, altri tre in apertura sono quest'anno e due l'anno prossimo. Milano, Venezia, Napoli, Arcore e tante altre location che avranno la fortuna di provare l'esperienza K.Aiseki. Insomma siamo stati testimoni di una bellissima storia che sta ancora venendo scritta, proprio mentre registro questa puntata e non vedevo l'ora di condividerla con te. Io se guardo al passato vedo due persone, l'ingi Anton appunto, capaci e intraprendenti, con un sogno del cassetto e tutte le carte in regola per realizzarlo. Oggi invece nel presente ho visto due imprenditori fatti e finiti, lucidi e capaci, con i manual format con un potenziale internazionale. Se guardo nel futuro non vedo sei locali, ma molti, molti di più. Credo e spero che il loro futuro sarà davvero roseo. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, ti voglio lasciare all'intervista. Sentirai qualche rumorino qua e là perché abbiamo registrato in mezzo alla preparazione del locale per il servizio del pranzo, ma so che non ti scandalizzerai nell'ascoltare persone che lavorano e semplicemente si preparano alla battaglia. Rimani connesso perché non soltanto uscirà il podcast, ma uscirà anche una bellissima video intervista sui nostri canali e stiamo finendo in questi giorni l'editing. Se non vuoi perderla, anche per gustarti la qualità delle immagini del Kaiseki e la mia brutta facciona, puoi iscriverti al canale YouTube di Ristoratore Top per non perderla. Un primo video, il primo di una lunga serie di interviste ai nostri clienti che sono felici di metterci la faccia. Ti lascio all'intervista tra me e Linji. Purtroppo Anton quel giorno non c'era. Linji, raccontaci un po' come sei finita a lavorare nel magico mondo della ristorazione. Allora, diciamo che ci sono caduta dentro perché quando avevo 21 anni i miei genitori hanno deciso di aprire un ristorante e noi provenivamo proprio da un mondo completamente diverso. Facevamo i divani, tutt'ora i miei genitori fanno i divani. Questi li avete fatti voi? Esatto. E quindi mi sono stata buttata dentro, ecco. Sei capitata nel mondo della ristorazione. Esatto, esatto. Il primo locale era sempre un sushi? Sì e no, era un all you can eat stile vecchio, wok, self-service, uno di quelli che andava molto in voga dieci anni fa, ecco. E tu avevi 21 anni, quindi eri davvero giovanissima quando hai iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione e era un altro mondo rispetto ad oggi. Sì, assolutamente. Sì, sì. E quando è che ti sei resa conto che in qualche modo dovevi cambiare qualcosa e che rispetto al modello di gestione di prima non eri così efficace? Allora, sicuramente noi lavoravamo un po' campati per aria, no? Cioè se penso adesso come lavoravamo 8, 9, 10 anni fa, c'era da mettersi le mani nei capelli sia al lato gestionale della ristorazione proprio ma anche al lato marketing, cioè identità differenziate proprio erano delle cose che... Che non conoscevi? No, assolutamente. Manco ci... Manco, cioè neanche... Anche se tu mi dicessi queste cose qui non sarei riuscita a capirle, insomma. Cioè non avrei consapevolezza che ci fosse? Assolutamente. Che era la loro esistenza? Sì, sì, sì. Si pensava che si viveva la giornata, quindi... E quando è che ti sei iniziata ad avvicinare al mondo di ristoratore top? Immagino con doppio dicembre, ti raccontavi? Sì, 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 con doppio dicembre nel 2015-2016 e vi ho scoperto così in... Non so se... Forse ho fatto una ricerca su Google perché si lavorava poco ai tempi, il nostro socio era uscito dalle quote e quindi mi sono ritrovata io l'unica persona che capisse un po' l'italiano a dover mandare avanti tutta la baracca e quindi un giorno ci eravamo talmente preoccupati che non c'era tanto lavoro e ci siamo detti, boh, faccio una ricerca su Google, ho detto e non so, forse ho scritto come lavorare di più nel ristorante o qualcosa del genere e sono capitata in un articolo di blog del tuo sito e poi sono entrata nel gruppo Facebook e da lì, pian piano, è iniziata la mia formazione, diciamo... Hai iniziato a studiare? Sì, 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 sì. Hai iniziato a capire che c'era un modo diverso di fare ristorazione e ti sei appassionata? Sì, 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 assolutamente, appassionata, ecco, la parola giusta. Ma sì, anche perché il marketing adesso a me e a te piace e quindi magari ci siamo veramente appassionati, non è normale per tutti che piaccia, però può essere anche una passione. Ma assolutamente, infatti io quando vado in giro, ma sia nei ristoranti ma anche nelle altre attività, il lato marketing è la cosa che io noto subito, sì, 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 e mi piace quando lavoro con delle persone che lavorano nel modo giusto col marketing, cioè sono anche contenta di spendere i soldi da loro. È vero? Sì. Sono quasi più meritevoli di fatto perché lavorano meglio degli altri anche sul marketing e quindi li spendiamo più volentieri. Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Quindi era il 2015 più o meno e hai iniziato con il doppio dicembre. Sì, 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 sì. Mi ricordo che ho speso i primi soldi nel marketing e ai tempi, cioè, pensavo, chissà se ho perso questi soldi con questi che mi stanno truffando o sarà la mia svolta. Cioè, veramente pensavo a questo. Erano le prime centinaia di euro che spendevo, manco avevo parlato con i miei genitori perché ho detto, ma se gli dico sta roba qui… Mi cazzano di casa. Esatto, mi ammazza perché siamo ridotti così e spendesti i soldi qua. Invece già dalla prima promozione mi ricordo che abbiamo fatto circa 20.000 euro di fatturato con quella promozione lì e da lì ho detto, sì, sono sulla strada giusta, devo studiare. Sì, devo studiare, devo continuare la strada del marketing. Facciamo un fast forward a quando hai iniziato ad aprire Kaiseki per la prima volta. Io ricordo che era il 2018, ci siamo incontrati e mi hai detto, Lorenzo, vorrei creare un locale diverso rispetto al sushi che avevamo prima e raccontaci un po' com'è andata. Sì, allora diciamo che in quel periodo avevamo già preso in mano il locale io e mio marito e quindi ci siamo sentiti di fare qualcosa di diverso, c'era già un po' più di consapevolezza, poi anche mio marito viene da un mondo di gestione diverso dall'azienda di casa, di famiglia e quindi insieme abbiamo pensato proprio di fare un locale diverso che non fosse l'ennesimo uguale a tutti gli altri e quindi ci siamo rivolti a te per il lato identità differenziante e poi anche nel restyling con l'architetto Langhi. Con il buon Langhi, assolutamente sì. Ricordo che all'inizio Kaiseki era un format leggermente diverso perché avevamo pensato di portare in Italia quella che era la formula Kaiseki, quindi una formula di degustazione molto più ricercata, molto più importante e poi in un secondo momento avete deciso di affiancarvi alla formula Unlimited, quindi di fatto prendendo comunque tutte le vibrazioni positive delle Kaiseki ma affiancandoci all'olio che è in it per andare incontro ai bisogni della clientela. Sì, diciamo che oggigiorno comunque all'olio che è in it c'è tipologia e tipologia, quindi noi siamo nella fascia un po' più alta sia nel design del locale ma anche come proposta e proposta dei piatti ma anche proposta del vino, quindi ormai anche chi è un po' più benestante, ricco, non so come dire, viene a mangiare un'olio che in it. È vero, ne parlavamo prima, se magari quando il sushi è arrivato per la prima volta in Italia era soltanto l'appannaggio di clientela ultra alta, oggi invece chiunque di noi mangia sushi quasi come se fosse diventata un'abitudine per l'italiano mangiare sushi e quindi è stato giusto andare incontro alle esigenze dei clienti. E quindi Linji dopo che hai aperto il primo Kaiseki la formula ha avuto successo, è piaciuta al pubblico e avete deciso di replicarli. Sì, nel 2020, nel 2020 abbiamo deciso di ampliarci e nel 2021 abbiamo aperto il secondo locale e anche il terzo. Ottimo, quindi al momento avete tre locali e altri tre in apertura. Esatto, uno a fine mese, a fine di questo mese, un altro un mese prossimo e un altro tra tre e quattro mesi se Langhi vuole. Certo, se Langhi ce la fa. Esatto. Te l'aspettavi così dura di aprire una catena, così difficile? Allora, se torno alla ragazza del 2015-16, neanche mi sarebbe passato per la testa, però è difficile tuttora perché ci sono tante cose da fare, però... Io ho visto Linji crescere in una maniera incredibile dal 2016 ad oggi, davvero. Adesso tuo marito non lo so perché non lo conosco, ma te sei cresciuta davvero tanto, per cui brava. Poi abbiamo iniziato a lavorare insieme facendo una consulenza legata al sistema di acquisizione e fidelizzazione ai clienti. Hai lavorato con Francesca e Anna, hai lavorato con Ristoratore Top e quali sono state secondo te le azioni che ti hanno più aiutato ad ottenere risultati? Allora, abbiamo fatto tantissime cose e tra l'altro ne parlavo anche con Elisa, la responsabile del marketing, la ragazza che mi affianca sul lato del marketing, che ormai aveva una bibbia lì, no? Certo. E ogni volta che, non so, abbiamo la mezza giornata libera o abbiamo vuoto di memoria, cioè andiamo lì e vediamo se c'è qualche altra attività da implementare perché ce ne sono talmente tante che tanti non siamo riusciti a farle, esatto, ancora farle. Perché vi abbiamo consegnato un manuale per la consulenza che è un report di fatto con le azioni che vanno fatte e quindi voi ogni tanto quando avete un vuoto di memoria andate a spulciare. Assolutamente, oppure quando abbiamo, non so, due giorni che diciamo non abbiamo idee nuove andiamo lì dentro che ce ne sono tante da mettere in atto. Per ispirazione. Io ricordo almeno la mia preferita è stata quella su scibollicine. Sì, sì, assolutamente, e abbiamo fatto una serata tutti i martedì, lo facciamo in tutti i nostri locali, dove appunto abbiamo già la formula del cibo illimitato e abbiamo affiancato le bollicine illimitate. Certo. E mi ricordo che alla prima serata abbiamo fatto sold out praticamente, hanno avuto più di 200 persone. 200 coperte. Esatto, quella sera lì. Poi, vabbè, nelle settimane dopo è andato un po' a stabilizzarsi, però ogni settimana, ogni martedì abbiamo qualche decina di persone, comunque dai 30 ai 50, che vengono solo per quella serata. Esatto. Bello, bello, mi fa molto piacere. E poi ricordo che c'è stata una bella idea, è quella di realizzare una mascotte, un avatar, per raccontare meglio cosa è Kaiseki, anche perché è un locale molto complicato, molto sfaccettato e serviva qualcuno che impersonificasse il brand. Sì, assolutamente, perché quando avevamo un locale solo a Castellanza ero io che scrivo le mail, io ero presente nel locale tutti i giorni, quindi l'ingi, tutti sapevano chi ero perché scrivevo io le mail, li accoglievo alla porta, quindi ero io la proprietaria. Abbiamo trovato questa necessità di avere una mascotte, soprattutto perché avendo più locali l'ingi non poteva essere presente in tutti i locali, anche lo store manager magari di un locale poteva, che ne so, dopo un anno, due anni andarsene e quindi non era la scelta, diciamo, ottimale la persona che scrivesse. Quindi abbiamo pensato a Kiki, che è una ragazza, un avatar, una ragazza giapponese molto carina, molto pazza, molto curiosa, che appunto porta tutte le novità del Kaiseki ai nostri clienti e poi settimanalmente porta i clienti a fare un viaggio, quindi l'abbiamo chiamato anche il viaggio di Kiki, che è questo appunto viaggio che questa ragazza molto curiosa, porta tutti i clienti a scoprire delle novità del Giappone, scoprire delle novità sul modo di essere dei giapponesi, sul modo di fare dei giapponesi o delle feste, delle curiosità. Curiosità. Esatto, sì sì sì. Sul mondo nipponico. Esatto. Molto interessante. Perché consigliereste il ristoratore top a un altro ristoratore, se lo consigliereste? No, io assolutamente lo consiglierei, soprattutto a chi ha la consapevolezza di voler crescere, di voler fare marketing in modo diverso, diciamo, nel modo giusto anzi. Certo. Perché, anzi, l'ho già consigliato a tante persone, però non tutti riescono a capire questa cosa, dipende un po' dalla consapevolezza della persona, però perché lo consiglierei? Soprattutto perché bisogna essere differenziati, cioè, bisogna essere diversi dagli altri. E quindi, quale modo migliore che affidarsi a dei professionisti? Grazie. Bene, hai ascoltato l'intervista, spero che ti sia piaciuta. Ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Ristoratore Top per non perdere poi il video dell'intervista quando uscirà sui nostri canali. Ti ricordo anche che se vuoi partecipare alla primissima edizione di Food Expansion Mastery, il nostro corso dedicato ai pochissimi imprenditori italiani nel campo della ristorazione che vogliono diventare grandi, hai ancora qualche giorno per acquistare il tuo biglietto alle migliori condizioni. Puoi andare su www.foodexpansionmastery.it per tutte le informazioni, rimangono ancora una manciata dei posti e spero proprio che tu sarai tra le persone in aula, perché sarà un corso davvero rivoluzionario e davvero importante. Prima dei saluti ti ricordo due cose. La prima è di condividere Radio Ristorazione con i tuoi colleghi, con i tuoi collaboratori e con chiunque possa usufruirne. La seconda cosa è che se hai voglia di seguirci fuori dal podcast hai due modi. Il primo è di cercarci su Facebook Ristoratore Top il gruppo e il secondo invece scaricare i casi studio gratuiti presenti sul sito www.ristoratoretop.com. Noi ci sentiamo dalla prossima puntata di Radio Ristorazione, non perderla e come al solito dai cazzo! Radio Ristorazione 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 Radio Ristorazione